Poco dopo le ore 20 di ieri, 4 di 5 gennaio, i vicini del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 87 in via dell'Industria Trissino per un incidente tra due auto. Una donna è rimasta ferita. All'origine del violento è fatto una probabile e mancata precedenza. L'intervento dei pompieri sotto una pioggia potente si è reso necessario per estrarla dalla raniera di una scattivizza. La donna è stata poi presa in cura dal personale sanitario del suo M118 e trasferita in ospedale. Illeso invece il conducente della tuta Renegade, i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vicini del fuoco sono ordinati dopo circa due ore.